Chiudete il caso Monte Carlo, prosciogliete Gianfranco Fini. Il presidente della Camera in gran segreto era stato indagato con l'ipotesi di reato di truffa aggravata per la vendita dell'appartamento di Rue Princess Charlotte a una società offshore, la Timara di San Lucia. Dopo tre mesi di indagini partite per un esposto di due rappresentanti della destra di Storace, la Procura di Roma emette il suo verdetto sulla querella giudiziaria che ha tenuto banco per tutta l'estate. Chiede al giudice delle indagini preliminari di archiviare il caso Tugliani-Montecarlo e di prosciogliere Fini e l'ex tesoriere di Alleanza Nazionale, il senatore Francesco Pontone. Proprio dopo l'interrogatorio dell'ex amministratore di AN e l'acquisizione dei documenti nella sede del partito, i pubblici ministeri avevano iscritto i due parlamentari sul registro degli indagati. La notizia è rimasta segreta fino a oggi pomeriggio. Ora la Procura in una nota scrive che è stata constatata l'insussistenza di azioni fraudolente. Non ci sono stati raggiri nella vendita dell'immobile ereditato dal partito dal patrimonio della Contessa Colleoni e venduto a 300 mila euro a una società offshore. Secondo i pubblici ministeri il prezzo della vendita era giusto. La Camera Immobiliare Monegasca aveva stimato il valore dell'appartamento di tre volte superiore a quello dichiarato ai fini della successione, 273 mila euro. Secondo i magistrati di Roma, la valutazione del Principato di Monaco è stata fatta in astratto, senza tenere conto dello stato di fatiscenza dell'appartamento. La conclusione della Procura è che qualsiasi rimostranza sulla vendita a prezzo inferiore della casa non compete al giudice penale ed è eventualmente azionabile nella competente sede civile. In pratica i magistrati dicono, non chiedete a noi, se volete rivolgetevi al Tribunale Civile. La Procura quindi chiude il caso, senza aver sentito fini né Giancarlo Tugliani, il cognato del Presidente della Camera, che fino all'esplosione del caso aveva abitato nell'appartamento, apparendo ancora oggi come affittuario. Non interessava ai magistrati sapere chi fosse il proprietario, ma stabilire se il prezzo della vendita fosse congovo. La destra di Storace sarebbe pronta a un nuovo ricorso. L'ultima parola ora aspetta al giudice delle indagini preliminari.